La pace non è solo assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona è in armonia con se stessa, la natura e gli altri. Papa Francesco all'Angelus in piazza San Pietro parte da questo assunto per richiamare la giornata mondiale della pace sul tema non più schiavi ma fratelli, celebrata il primo gennaio scorso. Invoca poi la fine dello sfruttamento dell'uomo, piaga sociale che impedisce una vita di comunione improntata al rispetto, la giustizia e la carità. La pace, ribadisce il Papa, è soprattutto un dono speciale di Dio che richiede di essere implorato nella preghiera e accolto ogni giorno con impegno. Pertanto con il nuovo anno, tutti, afferma, siamo chiamati a riaccendere nel cuore un impulso di speranza che deve tradursi in concrete opere di pace, di riconciliazione e di fraternità. Piccoli gesti nei confronti del prossimo che sono semi che danno speranza e che possono aprire strade e prospettive di pace, soprattutto negli scenari più difficili dove è necessario comunque far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra. Penso ai conflitti che insanguinano ancora troppi giorni del pianeta, alle tensioni nelle famiglie e nelle comunità, ma in quante famiglie, in quante comunità, anche parrocchiali, c'è la guerra. Come pure penso ai contrasti accessi nelle nostre città e nei nostri paesi tra gruppi di diversa estrazione culturale, etnica e religiosa. Dobbiamo convincerci, nonostante ogni contraria apparenza, che la concordia è sempre possibile, ad ogni livello, in ogni situazione. Non c'è futuro senza propositi e progetto di pace. Non c'è futuro senza pace. Grazie. 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 Grazie.